Ben ritrovati gentili amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con l'edizione del nostro telegiornale. È ancora rinchiuso in carcere Amedeo Mancini, il fermano di 39 anni indagato per l'omicidio preterintenzionale con l'aggravante degli insulti razzisti di Emanuel Kidi Namdi, il rifugiato politico nigeriano, ospite del centro di accoglienza di Don Vinicio Albanesi. Chi ha avuto modo di vederlo lo descrive come una persona disperata, distrutta dal dolore che piange spesso per quello che ha commesso. Il GIP non ha convalidato il fermo di Amedeo Mancini, il 39enne accusato dell'omicidio preterintenzionale con l'aggravante dell'odio razziale per la morte del migrante nigeriano Emanuel Kidi Namdi. L'uomo resta in carcere, il giudice ha infatti disposto la custodia cautelare. Amedeo Mancini riconosce di avere una responsabilità morale ma non giuridica nella morte del migrante, per questo mette a disposizione tutto quello che ha, un terzo di casa colonica ed un pezzettino di terra lasciateli dal padre a disposizione della vedova, secondo quanto dichiarato dal difensore dell'Ultra, in stato di fermo per l'omicidio preterintenzionale con aggravante razzista. Adesso andiamo negli Stati Uniti con l'uomo che ha ucciso 5 agenti di polizia a Dallas la settimana scorsa stava pianificando attacchi ben più grandi di quelli che ha commesso la settimana scorsa, lo ha reso noto il capo della polizia di Dallas che è convinto che il sospetto avesse altri piani che intendeva punire la polizia per quelli che considerava tentativi delle forze dell'ordine di punire l'agente di colore, questo secondo il capo della polizia di Dallas ma scopriamo qualche dettaglio in più nel prossimo contributo. C'erano altri attacchi nei terribili piani del cecchino afroamericano di Dallas, l'uomo che ha ucciso 5 agenti durante un corteo di protesta contro le uccisioni dei neri e più in generale contro i metodi utilizzati dalle forze dell'ordine a stelle e strisce stava infatti pianificando altri attacchi. Ad affermarlo è il capo della polizia locale David Brown che alla CNN ha spiegato che il materiale per la fabbricazione di bombe trovato nella casa di Mika Johnson con un'agenda porta a credere che stesse progettando esplosioni con effetti devastanti a Dallas e nel nord del Texas. Nel frattempo non si placano le tensioni nel paese tanto che durante le manifestazioni di protesta a Sam Paul in Minnesota per la morte di Philando Castile ucciso in auto da un agente sono state arrestate un centinaio di persone, metà di queste secondo quanto trapela sarebbe stata tratta in arresto poiché bloccava l'Interstate 94. Torniamo in Italia perché 5 cittadini italiani sono stati arrestati ed altri 16 denunciati per produzione, diffusione e condivisione di materiale pedopornografico online nell'ambito di una vasta operazione antipedofilia condotta dalla polizia su tutto il territorio nazionale. I 5 arresti eseguiti nell'ambito di perquisizioni domiciliari sono avvenuti in Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige e Lazio. Una vasta operazione antipedofilia è stata condotta dalla polizia in diverse regioni. 5 cittadini italiani sono stati arrestati ed altri 16 denunciati per produzione, diffusione e condivisione di materiale pedopornografico. Gli arresti eseguiti nell'ambito di perquisizioni domiciliari sono avvenuti in Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige e Lazio. 4 di loro erano incensurati e non conosciuti dalle forze dell'ordine. L'operazione nasce da alcune segnalazioni dell'Europol e della polizia belga nel settembre del 2015 che, sviluppate dalla polizia italiana, hanno portato a delle connessioni internet e dal tracciamento a mezzo del file di hash, materiale pedopornografico scambiato e condiviso tra gli indagati. Tra gli arrestati è anche un ultra settantenne cardiopatico e diabetico, ex direttore di un ufficio postale, a casa del quale sono stati rinvenuti 21.000 file e un ingegnere elettronico. colto in fragranza, mentre era intento a condividere una cartella con 600 file su circuito peer-to-peer. C'era infine un pensionato, ex operatore ecologico, peraltro nonno di due nipotini di 8 e 10 anni, che aveva l'abitudine di scaricare sul PC portatile e custodire il materiale pedopornografico sulle pendrive. Torrati in studio, adesso andiamo sul sito di TG.com24 a leggere alcune ultime notizie di qualche ora fa sul caso del dopo Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Si parla anche dell'Italia e della crisi delle banche italiane che non è acuta, ma naturalmente va monitorata tutta la situazione. Anche Deutsche Bank soffre e propone un piano di salvataggio europeo da 150 miliardi di euro. Dunque una situazione comunque in generale non positiva e che non riguarda, come abbiamo letto, solamente il nostro paese. Adesso andiamo invece a vedere il prossimo servizio che parla di una banda di scafisti che è stata sgominata dalle forze dell'ordine. Una vasta operazione congiunta tra le forze navali e aeree di EUNAV4MED, la missione europea contro i trafficanti di esseri umani, ha portato al fermo di una nave di scafisti abbordata nel canale di Sicilia. L'operazione si è conclusa con la consegna alle autorità italiane di tre presunti scafisti e il sequestro della nave, soccorsi in oltre 146 migranti. I fatti risalgono a sabato quando l'aereo da pattugliamento del Lussemburgo Merlin ha segnalato alla nave comando dell'operazione europea Sofia la portaerei Garibaldi la presenza in acque internazionali di un gommone carico di migranti e nelle immediate vicinanze di un'imbarcazione che lo accompagnava con rotta verso nord. Il comandante della task force ha quindi ordinato alla nave tedesca Verra di dirigersi sul posto e dalla portaerei Garibaldi sono decollati due elicotteri. La nave Borsini, appartenente all'operazione italiana Mare Sicuro, ha recuperato i migranti in difficoltà sul gommone. Nel frattempo, dopo aver stabilito un contatto diretto con la procura di Catania, il comandante della task force ha ordinato i gommoni dell'unità tedesca Verra con team di specialisti finlandesi a bordo di intercettare e abbordare l'imbarcazione sospetta. Questa ancora in acque internazionali si è fermata, i presunti scafisti che non hanno posto alcuna resistenza sono stati portati sulla nave tedesca che ha raccolto anche i migranti soccorsi da nave Borsini. La Verra si è quindi diretta verso il porto di Catania dove è arrivata domenica pomeriggio ed ha sbarcato i migranti e i tre sospetti scafisti insieme all'imbarcazione loro sequestrata portata a Rimorchio. Intensi combattimenti sono ripresi a Juba, la capitale del sud Sudan, nei pressi delle caserme della città e vicino ad una base dell'ONU. Con tre soldati fedeli al presidente Salva-Kir, la guardia del vicepresidente Riek Machar dopo il riacutizzarsi negli ultimi giorni delle tensioni tra le opposte fazioli che va avanti da anni ormai. In un tweet la missione ONU a Juba parla di scontri a fuoco con armi pesanti nell'area dell'Unhaus. In sud Sudan continuano gli scontri tra le forze fedeli al presidente Salva-Kir e quelle che appoggiano il vicepresidente Riek Machar. Sono almeno 200 i morti nei violenti combattimenti. Di nuovo guerra civile in sud Sudan. Italia chiede di far tacere le armi, unità di crisi in contatto con i nostri connazionali. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, mentre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità una dichiarazione in cui si chiede l'immediata cessazione delle violenze nel sud Sudan, che negli ultimi giorni ha provocato la morte di oltre 200 persone, chiedendo che nel travagliato paese africano siano inviati più caschi blu e condannando anche ogni attacco contro i siti dell'ONU. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, si è detto scioccato e inorridito per l'escalation di violenza e inaccettabile, ha detto, e potrebbe inficiare i progressi compiuti finora nel processo di pace. Il 2015 è stato un anno record per quanto riguarda il caldo in Italia con nuovi livelli della temperatura media registrata, i più alti praticamente da quando ci sono i dati, segnando un più 1,58 gradi centigradi a livello annuale ed un'anomalia più marcata in estate. In calo anche le precipitazioni sia nel nord Italia che nel centro, un po' meno al sud, ma in generale precipitazioni in calo. Caldo record in Italia nel 2015. L'anno appena trascorso è stato il più torrido per il nostro paese e si è raggiunto un nuovo record della temperatura media registrata, segnando un più 1,58 gradi centigradi a livello annuale ed è stata un'anomalia più marcata in estate, a dirlo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel suo nuovo rapporto, gli indicatori del clima in Italia. Questo conferma come l'andamento del surriscaldamento globale riguardi anche la penisola italiana. Il mese meno caldo rispetto alla norma è stato settembre al nord, febbraio al centro e al sud sulle isole. Secondo il report dell'Ixpra, però, non solo aumenta il caldo. Sul nostro paese sono anche in calo le precipitazioni del 13%, specie al nord e al centro. E per molti italiani anche quest'anno le vacanze rimarranno un desiderio non esaudito. Il principale motivo di rinuncia è naturalmente di ragione economica, seguito da motivazioni personali e dalla decisione di partire in altri periodi dell'anno. Dal monitoraggio effettuato dall'osservatorio nazionale Feder Consumatori emerge che solo uno su tre, un italiano su tre, partirà per una vacanza tradizionale di almeno una settimana nel periodo estivo. Anche quest'anno, per molti italiani, le vacanze estive rimarranno un miraggio lontano. La ragione principale della rinuncia è da rintracciare nelle possibilità economiche, mentre sul podio salgono anche le ragioni personali, oppure la decisione legittima di partire in altri periodi dell'anno. È quanto emerge dal monitoraggio a cura dell'osservatorio nazionale Feder Consumatori, secondo il quale soltanto un terzo degli italiani lascerà la propria città per una vacanza di almeno una settimana nel corso del periodo estivo. Boom di soggiorni brevi, sicuramente meno impegnativi dal punto di vista economico, mentre altri opteranno invece per farsi ospitare da amici e parenti. Un trend meno negativo rispetto agli anni passati che però fa emergere una situazione di difficoltà in cui ancora oggi vivono molte famiglie. Fa segnare invece un segno o più il costo complessivo di una vacanza al mare per una famiglia tipo, costo che appunto si incrementa dell'1,5% arrivando a 3.732,14 euro, cifra che una famiglia composta da due adulti e due figli deve sostenere per una vacanza di una settimana in una località balneare italiana. Anticipiamo quelli che saranno gli argomenti della pagina sportiva. Naturalmente in primo piano non possiamo non dedicare spazio al Portogallo, alla squadra Lusitana che si è laureata campione d'Europa dopo aver battuto la Francia in casa proprio 1-0 ha deciso una rete di Eder, quello portoghese non quello italiano e ha portato a casa il primo trofeo davvero importante per la storia del Portogallo. Non solo questo, naturalmente tanto calciomercato perché ormai siamo entrati nella fase calda e non solo a livello di temperatura perché è vero manca ancora un mese e mezzo alla fine del calciomercato ma i colpi iniziano ad esserci, le trattative sono sempre più importanti. A tra poco! Nuovamente insieme per affrontare la nostra pagina sportiva partiamo dal Portogallo. 1-0 dopo i tempi supplementari, la squadra Lusitana ha vinto contro la Francia nella finalissima di Parigi, un risultato storico, il primo trofeo di questa nazione tra europei e mondiali. Allora andiamo a vedere cosa è successo ieri e come hanno vissuto i portoghesi questo risultato storico. Per la prima volta nella sua storia il Portogallo vince un trofeo internazionale laureandosi campione d'Europa. Ci riesce dopo una battaglia contro la Francia, padrone di casa lunga 120 minuti e senza la sua stella più lucente, quel Cristiano Ronaldo costretto a uscire in lacrime in Barella al venticinquesimo minuto del primo tempo dopo un brutto colpo al ginocchio rimediato in uno scontro con Paillé. I portoghesi sembrano destinati a soccombere, i francesi a trionfare e invece no. I portoghesi dopo una prima mezz'ora letteralmente in balia del palleggio dei padroni di casa riescono a compattarsi sempre più con il passare del tempo fino a divenire una sorta di cassaforte a reparti blindati. Di occasioni ne hanno sicuramente di più i francesi, Griezmann va vicinissimo al gol con un pallonetto di testa, Giroud nel secondo tempo non è da meno, ma Rui Patricio è sempre presente. Poi Sisoko e infine Gignac che dopo aver saltato Pepe in area di rigore manda il pallone sul palo. Il verdetto dei supplementari è amarissimo per le migliaia di tifosi francesi presenti a Saint-Denis. Eder subentrato a Renato Sanchez fa partire un missile da fuori area che beffa Ioris e si in sacche in rete. Il Portogallo piange ma sono lacrime di gioia. Abbiamo visto il Portogallo che ha vinto. Ha vinto in finale contro la Francia. Di chi? Di Evra, di Pogba soprattutto. Abbiamo citato questi due giocatori perché militano nella Juventus ma soprattutto il secondo, cioè Paul Pogba, è nel mirino di diversi club. In queste ore ha parlato il suo agente Mino Raiola. Ascoltate cosa ha detto. Con ancora la delusione scottante della finale persa contro il Portogallo, Paul Pogba può pensare alle vacanze ma tenendo anche un occhio alla prossima stagione. Il Manchester United di Murigno è pronto a fare ponti d'oro per averlo, ma ad allontanare il francese dalla Premier League è il suo agente Mino Raiola. La società vuole rinnovare il contratto a Pogba, l'intenzione di trattenerlo e lui non ha fretta di andare via, sono state le parole del procuratore, che fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri. Un messaggio non troppo velato alla società, con un rinnovo e un sostanzioso ritocco di ingaggio, le sirene inglesi possono essere messe da parte, con buona pace di Jose Mourinho e dei 120 milioni di euro offerti dal Manchester United. È stato presentato nella giornata di ieri direttamente da Pinzolo Gerson, il nuovo acquisto della Roma, un brasiliano molto giovane che proverà a dare una mano ai giallorossi. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Gioco nel mio campo. Sì, sono un centrocampista, quindi mi muovo su tutto l'arco del centrocampo. Mi piace offrire assist ai miei compagni, fare passaggi decisivi, ma anche arrivare alla conclusione partendo da fuori aria. Sono molto felice di essere qui, per me è un grandissimo onore indossare la maglia di una grande squadra europea e cercherò di fare del mio meglio. Io pretendo fare il mio meglio ora che... La Roma è un... La Roma è una grande squadra, che è una grande tradizione con i calciatori brasiliani. Anche a me piacerebbe essere ricordato, lasciare un segno come è stato per tanti altri in passato. Quindi anche per questo per me è un grandissimo onore indossare questa maglia e adesso non mi tocca altro che dimostrare sul campo il mio valore. Effettivamente me lo ha già detto. So che i ruoli sono molto diversi dal Brasile qui in Europa, però ecco sono pronto a fare del mio meglio, a fare del mio meglio per aiutare i miei compagni con e senza la palla. Io so che è stato un grande giocatore, che ha fatto la storia di questo club, ma io sono molto giovane e non l'ho mai visto giocare. Quanto alle difficoltà, io cercherò di fare del mio meglio. Sono sicuro che se lo farò non avrò troppi problemi. E dedichiamo anche spazio alla Formula 1, come giusto che sia, perché è stato un weekend di motori con Lewis Hamilton che ha trionfato al Silverstone in Inghilterra davanti ai propri tifosi. Un altro successo, meno uno in classifica da Nico Rosberg che aveva chiuso al secondo posto, poi è stato penalizzato e alla fine è arrivato terzo. Finisce con 10 secondi di penalizzazione il weekend inglese di Nico Rosberg sul circuito di Silverstone in occasione della decima tappa del mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes è stato infatti sanzionato, la decisione finale è arrivata dopo quasi 4 ore di attesa, per avere ricevuto una comunicazione dai box che il nuovo regolamento vieta. In baglia di un problema al cambio della sua monoposto, gli è stato indicato di non utilizzare la settima marcia in aggiunta ad alcuni consigli utili su come agire sul volante. Il tedesco cede dunque il secondo posto a Max Verstappen che aveva tagliato il traguardo in terza posizione a poco meno di due secondi di distanza. A cambiare però non è soltanto l'ordine di arrivo ma anche la classifica piloti in cui ora Rosberg ha soltanto un punto di vantaggio sul compagno di team Lewis Hamilton. Siamo quasi in chiusura, adesso andiamo a ricapitolare le notizie principali di questo telegiornale grazie all'aiuto della redazione di Ital Press. Il GIP non ha convalidato il fermo di Amedeo Mancini, il 39enne accusato dell'omicidio preterintenzionale con l'aggravante dell'odio razziale per la morte del migrante nigeriano Emanuele Cadì Namdi. L'uomo resta in carcere, il giudice ha infatti disposto la custodia cautelare. Amedeo Mancini riconosce di avere una responsabilità morale ma non giuridica nella morte del migrante. Per questo mette a disposizione tutto quello che ha, un terzo di casa colonica ed un pezzettino di terra lasciateli dal padre a disposizione della vedova secondo quanto dichiarato dal difensore dell'ultra. Il stato di fermo per l'omicidio preterintenzionale con l'aggravante razzista. Caldo record in Italia nel 2015. L'anno appena trascorso è stato il più torrido per il nostro paese e si è raggiunto un nuovo record della temperatura media registrata segnando un più 1,58 gradi centigradi a livello annuale ed è stata un'anomalia più marcata in estate. A dirlo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel suo nuovo rapporto gli indicatori del clima in Italia. Questo conferma come l'andamento del surriscaldamento globale riguardi anche la penisola italiana. Il mese meno caldo rispetto alla norma è stato settembre al nord, febbraio al centro e al sud sulle isole. Secondo il report dell'Ixpra però non solo aumenta il caldo, sul nostro paese sono anche in calo le precipitazioni del 13%, specie al nord e al centro. L'Istat non perdona. La produzione italiana a maggio 2016 è diminuita dello 0,6% rispetto ad aprile e a maggio del 2015. Lo rivela una giroca corretta per effetti di calendario che ha equilibrato i 22 giorni lavorativi dell'ultimo periodo rispetto alla rilevazione dell'anno scorso, compiuta su 20. L'attività estrattiva soffia di più, meno 13,5%, quasi il 10% di calo per i prodotti petroliferi raffinati, 6,5% per l'industria tessili con abbigliamento, pelli e accessori. A crescere è il settore dei mezzi di trasporto, più 5,6%, quello della fabbricazione di computer e altri prodotti elettronici, più 4,3% e quello farmaceutico, più 2,5%. Repubblica alimenta così i dubbi intorno alla crescita dell'economia italiana, già colpita dagli effetti Brexit. Cosa ne sarà del PIL nei prossimi mesi? Paolo Mameli, del centro studente da San Paolo, ha dichiarato che non si può escludere che il PIL possa rallentare nel trimestre primaverile, verosimilmente a più 0,2%. È davvero tutto per questa edizione del telegiornale, grazie mille per averci seguito, rimanete mi raccomando sulle nostre reti, noi ci ritroviamo domani, ora lasciamo spazio alle previsioni del tempo, grazie a Trebimeteo. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trebimeteo. Vediamo il tempo che ci aspetta nella giornata di martedì, partendo dall'Europa, dove avremo ancora l'anticiclone dominante sul Mediterraneo, mentre sui settori centrosettentrionali si approfondisce una perturbazione che determinerà piogge e temporali sull'Europa centrale. Per quanto riguarda la nostra penisola, avremo anche qui i primi segnali della perturbazione in arrivo sulle Alpi, con maggiore variabilità e qualche temporale più diffuso sui settori alpini, prealpini, ma anche sulle pianure del nord. Maggior soleggiamento e clima ancora molto caldo altrove, con valori fino a 37-38 gradi sui settori interni centro-meridionali. Vediamo ora il dettaglio delle previsioni, partendo dal nord, dove ci aspetta una giornata variabile in montagna, con acquazioni temporali che localmente saranno anche di forte intensità, specialmente sui settori alpini. In pianura qualche temporale sarà in arrivo verso la sera. Al centro giornata soleggiata con tempo molto caldo e alla sud anche qui sarà caratterizzata la giornata da ampio soleggiamento e soltanto qualche isolato temporale diurno sulla dorsale campano-lucana. Maggiori dettagli sul sito trebimeteo.com